La realizzazione del Museo della Perdonanza si fa sempre più vicina ad un'impresa romana, la realizzazione della Casa del Museo Interattivo, inserito nelle attività per valorizzare la storia di Celestino e della manifestazione, tanto cara e preziosa per gli aquilani. La sede sorgerà in via Sassa e la spesa monta a un milione di euro. Il museo è stato progettato dall'architetto Giuseppe Cimino, sarà composto da sette stanze tematiche, ci sarà uno spazio per il merchandising. Una realizzazione che si lega in qualche modo anche alla due giorni in corso in città, un'educational con tutti gli operatori del settore turistico, organizzata dall'assessore Ersilia Lancia a Palazzetto dei Nobili. Una delle tante offerte turistiche dell'Aquila in questi due giorni, qui a Palazzetto dei Nobili, qui l'Aquila Travel and Experience, abbiamo invitato 30 fra agenzie di viaggio, tour operator, blogger, stampa specializzata, abbiamo aperto la città, i palazzi, i musei, i monumenti, insomma tutto quello che c'è di turistico e non solo interessante da mostrare. Ed è chiaro che in questo si inserisce, fiore all'occhiello, il museo della perdonanza. Avevamo già completato l'affidamento per quanto riguarda il progetto esecutivo, adesso c'è un nuovo affidamento, ma quello che ci piace di più sottolineare sarà un nuovo modo di divulgare la cultura, perché si tratta di un museo che è dedicato alla perdonanza, ai suoi costumi, diviso in Piussale, in un palazzo storico in Via Sassa, con in realtà anche multimediale e aumentata. Siamo fiduciosi, siamo fiduciosi di questa nuova, differente offerta turistica che caratterizza sempre di più l'Aquila, che sta cercando di fare il passaggio da destinazione turistica a prodotto turistico. Sempre legata alla perdonanza, la visita del cardinale Giuseppe Petrocchi, ricevuto a Roma in udienza privata da Papa Francesco. Petrocchi ha ringraziato ancora una volta il Papa per la sua visita, che a sua volta ha detto di essere felicissimo, di essere stata all'Aquila, invitando il porporato a portare a tutti gli aquilani la sua benedizione. Grazie.